Vi faccio vedere la tecnica per fissare il rossetto utilizzando Haim, rossetto, colore puro, luminosità assoluta e dà l'effetto piuma sulle labbra. È sempre molto importante idratare bene le labbra prima di utilizzare qualunque prodotto makeup però in questo caso lo è ancora di più e utilizzo il concentrato SOS che è una crema specifica per le labbra, il viso, il corpo e tutte le zone aride e screpolate. Dopo aver idratato le labbra ed eventualmente le vado a tamponare se c'è un eccesso di prodotto con una velina, applico su tutte le labbra i luministacci. Lo applico attorno agli angoli delle labbra, sull'arco di cupido e poi lo sfumo su tutte le labbra perché è un'ottima base per il rossetto. Stendo bene il correttore e poi lo vado a fissare con una cipria tamponando. Applico ora la matita su tutte le labbra e non solo sul contorno dello stesso colore del rossetto o di un colore leggermente più scuro. In questo modo il colore del rossetto diventa molto più vivace e ne aumenta anche la tenuta. Applico ora il rossetto sulla matita. Ora fisso il rossetto utilizzando la cipra trasparente professional powder e il pennello occhi base in maniera tale che possa applicarla solo sul rossetto. In questo modo il rossetto apparirà opaco e con un effetto lunga tenuta.